il 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 Rizza, veloclerso estese, arriva Roby, Mario, il Dau, Lele, in programma al Pacheggio, 180 km andata, ritorno, all'andata ci siamo, cioè siamo partiti, al ritorno chissà, oggi è terreno per il Dauro, giusto, per la diga degli stambecchi oggi l'ha tanto che si muove. Mancano solo 150 km, ormai è fatta. Oggi è dura, ma c'è Carmelo che ci tira su oggi. Grazie a tutti. Grazie.